Con un cartello colorato passato da una finestra, i piccoli pazienti dell'ospedale pediatrico Salesi di Ancona ringraziano i Vigili del Fuoco che anche quest'anno, nonostante il Covid, sono tornati a trovarli portando con loro Babbo Natale. È una cosa molto gratificante, in più a questi bambini diamo felicità e doniamo dei piccoli regali che per noi magari è poco ma per loro è molto. L'evento che ormai è una tradizione non solo per i bambini ma anche per i Vigili del Fuoco si è svolto a distanza nel rispetto delle norme anticontagio. Quindi Babbo Natale ha consegnato i regali dalle finestre salendo sull'autoscale e salutato i piccoli ospiti della struttura sanitaria. Grazie a una raccolta fondi da parte del personale dei Vigili del Fuoco è stata inoltre fatta una donazione all'associazione Raffaello Onlus. Sono iniziative che nascono dal cuore dei Vigili del Fuoco prima ancora che dalla testa che già da otto anni vengono sostenute e che intendiamo continuare a sostenere. Quest'anno con qualche accortezza in più ma con stessa motivazione e stessa passione. Questo era troppo importante, dopo otto anni non potevamo fare a meno. In particolare in un anno come questo? Perché almeno anche i bambini vedono che c'è qualcosa proprio così spettacolare anche per loro.